Un uomo è stato arrestato all'aeroporto di Venezia per aver aggredito una donna detta le pulizie. La signora stava operando nel bagno, al primo piano dello scalo Marco Polo. Dopo una discussione è stata brutalmente aggredita dall'indagato, un italiano di 45 anni senza fissa dimora e con precedenti per violenze. In particolare l'arrestato ha spintonato e aggredito fisicamente la donna, che è riuscita, seppure in lacrime e sotto shock, a chiedere l'intervento di una pattuglia della polizia di frontiera aeroportuale. All'arrivo degli agenti, intervenuti celermente sul posto, l'uomo ha iniziato a inveire contro di loro con frasi ingiuriose, opponendo una vivida resistenza fisica per sottrarsi al controllo, sferrando addirittura un calcio ad uno di loro. Successivamente il poliziotto è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari e guarirà in sette giorni. Bloccato in sicurezza, senza non poche difficoltà, l'aggressore è stato poi arrestato e accompagnato presso la cella della questura di Venezia, in attesa del rito per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto l'obbligo di presentazione giornaliera alle forze di polizia.